Amici di Vivo in Sicilia, guardate dove siamo oggi, stiamo vivendo l'atmosfera del carnevale qui c'è un carnevale che parla anche della nostra bella Sicilia con i simboli su questa terra fantastica, qui c'è il carretto siciliano fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi stiamo mostrando dal vivo il carnevale Acquedolcese 2024, ed ecco lì i carri che stanno arrivando questo è un minicaro ma davanti a noi ci sono carri di più grandi dimensioni e questa è una tradizione che si porta avanti da tanti e tanti anni qui in questo luogo, quello di realizzare carri allegorici in carta pesta uno più bello dell'altro e poi da far cornice ai gruppi mascherati allora sta arrivando un altro carro allegorico aspettiamo di leggere anche i vostri commenti, fateci sapere cosa ne pensate fateci sapere anche come state vivendo voi il carnevale piccoli e grandi uniti per questa grande festa perché ci siamo ragazzi tornati tutti qui da noi ragazzi riparte il carnevale Acquedolcese riparte dopo qualche anno di stop e qui guardate che bello questo carro grazie aci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il carnaval da Quedolcese 2024 fateci sapere da dove ci state guardando ciao Dona, ecco facci sapere da dove ci guardi e ti aspettiamo naturalmente in Sicilia perché la festa è appena iniziata questa è la prima sfilata ma si prosegue martedì e poi domenica prossima e poi vi aspettiamo anche in tanti altri eventi in Sicilia avete visto che cari, quanta allegria tantissime persone oggi qua Irene ci saluta dal Piemonte ciao allora anche a te dai ti aspettiamo in Sicilia, presto allora lì sta arrivando un'altra carnaval che sono solo alcuni dei carri protagonisti di questa edizione fino da quell'oggi fateci sapere anche qual è il carnevale più bello che avete vissuto basi da trovate anche dei video realizzati lo scorso anno a Mister Bianco con i bellissimi bozzoni adesso che sta arrivando saluto grande abbraccio a tutti amici in pagina tanti altri video foto dedicati ai carnavali più belli della nostra amicinia e qui la festa continua un abbraccio a tutti ciao ciao buon carnevale ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.